perché aveva 32,26 e sul tecnico rimangono leggermente indietro direi proprio un buon punteggio comunque sono stati comunque bravi siete pronti da casa per tifare i nostri azzurri per tifare i nostri campioni europei eccoli Sara Conti, Nicolò, Macì questo programma tra l'altro è bellissima con la musica Oblivion di Mina e loro lo interpretano in maniera eccellente forza, forza Sara e Nicolò dai dai un buon punteggio un buon punteggio un buon punteggio un buon punteggio direi che possono essere felici un programma straordinario ecco Barbara Ruoni con Paolo Pizzoccari in Balaustra veramente questa coppia incredibile che è nata prima fuori dal ghiaccio e poi sul ghiaccio ed è bellissimo quando Nicolò dice per me l'importante era stare con lei non volevo rovinare il tutto andando poi a gareggiare insieme invece mi sembra che abbiano trovato il giusto feeling anche sul ghiaccio insomma speriamo che tutto questo feeling continui bello bello come l'hanno affrontato ha visto molto determinati vero? assolutamente sì sono stati bravi a dosare penso tutto a mettere quello che dovevano mettere in ogni elemento l'hanno gestita bene come primo mondiale bellissimo abbraccio andremo via a mente andremo via a mente andremo via a mente naturalmente noi vi lasciamo sempre sentire tutti i saluti a casa e i ricordi per chi anche non c'è più ed ecco Conti Macì questo è il punteggio 73-24 davvero un programma importante con 40-47 sul tecnico e 32-77 nei compagni grazie a tutti Grazie a tutti.